buongiorno amici bentornati nel canale team tortuga oggi veramente un video piccolo e brevissimo che però per noi è veramente significativo volevamo semplicemente cogliere l'occasione per ringraziarvi abbiamo raggiunto il traguardo dei 1000 iscritti non è niente di che però a noi fa veramente piacere perché ci motiva sempre a fare contenuti e video nuovi per cui grazie veramente grazie ancora a tutti quanti per perché ci seguite perché ci sostenete e per tutti i commenti sempre che rilasciate inoltre ricordatevi che l'89 per cento di voi non è iscritto al canale di voi intendo per coloro che guardano i video per cui sosteneteci iscrivetevi al nostro canale così noi ingrandiamo questo canale portiamo avanti nuovi progetti cerchiamo di realizzare più contenuti possibili e di parlare di più argomenti che tocchino tutto quello che ci riguarda sull'argomento pesca argomento bar che argomento mare su quello che fondamentalmente è la nostra passione un salutone dal team tortuga e come sempre alla mattei line